Bentornati al nostro videocorso sulla ontologia trinitaria, interpretazione della teosofia di Antonio Rosmini. Abbiamo visto come Rosmini cerca di distinguersi e identifica il suo proprio metodo metafisico in confronto critico con ciò che da un lato è una metafisica premoderna, tendenzialmente identificabile con un realismo e quella moderna identificata da lui e non soltanto con l'idealismo. E troviamo nel paragrafo 819 questa stessa sistemazione alla quale vogliamo dare adesso un'occhiata un po' con le parole stesse di Rosmini, come conferma di quanto sviluppato fin ora. Ci troviamo concretamente nel terzo libro della teosofia sull'essere trino nel quale Rosmini riflette sulla circunzessione delle tre forme rispettivamente di due nella terza, ossia prima della forma ideale e morale in quella reale, poi di quella reale e morale in quella ideale e poi di quella reale e ideale in quella morale. Quando Rosmini riflette precisamente come la forma reale è insistente nella forma ideale, lui svolge queste considerazioni sul rapporto concreto tra ideale e reale e dice che parla di diversi sistemi erronei che nei diversi tempi furono prodotti dai filosofi intorno alla relazione degli esistenti reali con l'essere ideale. Vediamo, problema della relazione ideale, reale. E dice che i sistemi erronei si riconducono sostanzialmente a due tipi fondamentali. Il primo appartiene, come dice Rosmini, alla filosofia volgare ed è quello che, facendo attenzione alla diversità tra l'idea e la cosa reale e non esaminando più avanti la loro relazione, suppone che il reale esista indipendentemente da ogni idea e da ogni mente. E questo sistema sarà da noi chiamato annoetico assoluto. Annoetico assoluto che per Rosmini in altre parole non è nient'altro che un realismo estremo, un realismo che pensa di poter fabbricare una metafisica sul reale senza considerare la istanza del pensante, la istanza del soggetto che appunto fa la metafisica. Sistema che non considera la relazione tra l'essere, identificato dal sistema annoetico assoluto col reale, con la mente, ossia con quella istanza che per Rosmini è caratterizzata dalla manifestazione dell'essere, dalla presenza dell'essere ideale. Rosmini in altri luoghi salva Sant'Omaso da un riduzionismo realistico così estremo, però non nasconde, anche se lo esprime in maniera sempre molto diplomatica, il rischio che intravede in un determinato realismo premoderno di sfociare in un tale sistema annoetico assoluto. Dall'altro lato di Rosmini abbiamo però questo sistema annoetico assoluto ha il rischio di sfociare di Rosmini in un dualismo assoluto, dualismo di cui certamente gli stessi pensatori annoetici non se ne accorgono, perché non si rendono conto che la istanza del pensiero esige una relazione fondamentale all'interno dell'essere, ossia relazione tra soggetto e oggetto, tra reale e ideale. Siccome non viene pensata questa relazione, allora questo sistema rischia di sfociare in un duismo, come dice Rosmini. I filosofi sequaci di questo sistema, qualora fossero coerenti, dovrebbero cadere in un dualismo ontologico, e allora si dovrebbero chiamare duisti, come quelli che verrebbero a mettere due esseri primitivi, un essere ideale e un essere reale, non pensando appunto alla loro relazione concreta. Qui vediamo adesso come anche un'ontologia trinitaria realizza quello di pensare originalmente allo stesso modo fondamentale come si pensa la sostanza, anche la relazione. Come è possibile questo? Vediamo già come si delinea uno dei vantaggi e uno dei tratti, delle caratteristiche più fondamentali di una ontologia trinitaria. Ma passiamo adesso al secondo tipo estremo. Il secondo tipo estremo, dice Rosmini, appartiene alla filosofia dotta, alla filosofia moderna, alla filosofia, come vediamo, alla quale Rosmini non nega un certo apprezzamento in chiave di speculazione, di sistematicità, che però non è quello adesso annoetico assoluto, ma dianoetico assoluto, ossia anche questo sistema non pensa alla relazione costitutiva tra soggetto e oggetto, tra essere ideale, essere reale ed essere ideale, ma la risolve appunto speculativamente nell'unità del pensiero stesso. Rosmini dice, loro fanno attenzione all'intimo nesso che passa tra l'enti ideale e il reale, e ben conoscendo che il secondo non può stare senza il primo, cioè che il reale non può stare senza il suo essere conosciuto, conchiude che il reale non è che una emanazione dell'ideale, riconduzione quindi della forma reale a quella ideale, riconduzione dello statuto epistemologico, metafisico, della realtà al concetto, il quale sistema, dice Rosmini, può dirsi dianoetico assoluto, perché considera l'essere reale solo in quant'eli è intimamente unito all'ideale e non lo considera abbastanza in quanto è distinto da lui. I filosofi che seguono un tal sistema possono anche chiamarsi unitari, perché non si contentano di riconoscere l'unità dell'essere, ma per una soverchia inclinazione a unificare ogni cosa, confondono col nulla anche le diverse forme dell'essere. È un paragrafo dopo 820, tra i sistemi unitari o dianoetici assoluti, quello che ai tempi nostri levò maggior rumore fu legheliano, chiamato anche bisnipote di Kant. Rosmini, allora, pretende, con l'ontologia trinitaria, che ancora dobbiamo approfondire metodologicamente come si realizza, evita annoetismo assoluto e dionetismo assoluto, evita un realismo estremo e un idealismo estremo, cercando di pensare nell'essere la relazione costitutiva tra ideale e reale, tra pensiero e manifestatività dell'essere. Di questa prima dualità di cui bisogna sempre considerare la fondamentale differenza, ma nell'unità dell'essere stesso. Com'è possibile mantenere l'unità dell'essere senza identificare ideale e reale? Come già accennato nella scorsa video-lezione, Rosmini trova una risposta a questo, soltanto unificando con questo metodo speculativo un altro, ed è quello della differenza ontologica tra essere assoluto ed essere contingente. perché secondo Rosmini in San Tommaso il vero momento che consentiva di pensare la differenza ontologica, tra essere assoluto ed essere contingente, nella unità dell'essere, sta in un concetto che secondo Rosmini, lo stesso San Tommaso avrebbe tematizzato, senza però esplicitarlo in tutte le sue conseguenze metafisiche. E possiamo considerare, in un certo senso, la teosofia proprio come la esigenza di delineare questa potenzialità contenuta in questo concetto metafisico di San Tommaso, che è l'actus essendi, l'atto dell'essere. L'atto dell'essere, secondo Rosmini, consente per San Tommaso in ultima analisi l'analogia, la unità del sistema metafisico nella differenza ontologica. E allo stesso momento, però, il non aver pensato speculativamente fino in fondo l'actus essendi impediva anche a San Tommaso di arrivare a una vera e propria ontologia trinitaria. Perché solo se avesse pensato veramente speculativamente fino in fondo questa sua grandissima intuizione, questa sua grandissima intuizione che in San Tommaso è il vero apporto del pensiero cristiano alla metafisica aristotelica, solo se avesse pensato questo, allora avrebbe anche potuto concepire una ontologia trinitaria. Perché dico questo? È un'affermazione abbastanza complessa, come si intende subito. Cerchiamo di riflettere. In un primo momento, secondo Rosmini di il fatto che San Tommaso non ha pensato l'actus essendi, non averlo riferito a una teoria complessiva dell'essere stesso, non aver penetrato la ontologia intera con la potenzialità speculativa di questo concetto, avrebbe avuto come primo risultato che San Tommaso si è fermato alla differenza ontologica tra essere assoluto ed essere contingente, mettendola insieme con la categoria della analogia senza pensarla fino in fondo. Pensarla sì, intuendola sì, ma il confronto con l'eghelismo permette a Rosmini di pensare veramente l'intera portata teoretica dell'actus essendi. Che cosa succede se non si riesce a pensare la analogia fino in fondo? Succede quello che il grande pensatore e vescovo di Aquisgrana Klaus Hemmerle e il grande pensatore filosofo e teologo Karl Rahner nella seconda metà del ventesimo secolo hanno riproverato alla metafisica tradizionale, alla metafisica medievale, a quella metafisica che sostanzialmente determina il pensiero cristiano fino ai loro tempi e fino a oggi. È una critica non distruttiva, è una critica non eretica tra virgolette, ma una critica costruttiva. E questa critica in fondo dice era analo esplicita in un articolo nel Misterium Salutis quando scrive che in Santo Maso la categoria la realtà della divina trinità non sarebbe riuscita non sarebbe riuscita a rimodelare a imporsi a formare a riformare profondamente il concetto di essere che pur con tutte le modificazioni che sappiamo e che Sant'Omaso ha portato e che anche Rahner riconosce in fondo avrebbe ripreso da Aristotele in altre parole quando Sant'Omaso pensa dell'essere finito pensa in maniera aristotelica quando pensa di Dio pensa in maniera trinitaria la differenza ontologica consente allo stesso momento di mantenere entrambi i metodi metafisici in sé inconciliabili entrambi i metodi metafisici la analogia permette di pensarli anche insieme ma non avviene ancora il passaggio definitivo che la novità del concetto centrale del cristianesimo che ha portato a un pensiero dell'essere perché l'ha portato al pensiero dell'essere assoluto avrebbe potuto contribuire alla storia della metafisica stessa ossia al pensiero dell'essere in quanto tale non soltanto dell'essere assoluto e Rahner dice in questo articolo che soprattutto la differenziazione categorica nella summa teologia tra il trattato dei Deo Uno e dei Deo Trino avrebbe potuto consentire questo che Santo Maso quando pensa della Trinità pensa in maniera originalmente cristiana e con categorie che secondo i concili di Nicea e Calcedonia avrebbero portato a una rottura a un superamento delle categorie ontologiche fondamentali del pensiero greco ma Santo Maso li adopera appunto li adopera appunto soltanto per l'ambito dei Deo Trino per la sua teologia naturale quindi anche per il coronamento della metafisica della sua impostazione classica non avrebbe portato nessun influsso fondamentale rivoluzionario si poteva in altre parole continuare a pensare normalmente aristotelicamente dell'essere e quando poi si pensa di Dio in maniera cristiana e non filosofica di Deo Uno ma in maniera cristiana di Deo Trino si adoperano categorie che nominalisticamente sono le stesse natura persona ipostasi eccetera ma sistematicamente vengono adoperati in una maniera che con la loro logica di fondo contraddice radicalmente alla logica dell'essere aristotelico come appunto esprimono i dogmi tra virgolette di licea e di calcedonia e Rahner appunto in questa in questo suo articolo analizza anche le conseguenze di una certa di una tale impostazione dogmatica della filosofia cristiana per il pensiero teologico concreto per la filosofia cristiana in quanto tale persino per la vita dei cristiani e per la realtà della vita spirituale Rahner dice i cristiani nonostante la loro esatta professione della trinità i dogmi di calcedonia siano quasi solo dei monoteisti nella pratica della loro vita religiosa si potrà quindi rischiare l'affermazione che se si dovesse sopprimere come falsa la dottrina della trinità pur dopo un tale intervento gran parte della letteratura religiosa potrebbe rimanere quasi inalterata questo rana scrive alcuni decenni fa oggi per fortuna in parte possiamo anche rivedere questa tesi e possiamo vedere che nella letteratura dogmatica spirituale la trinità probabilmente ha una presenza e una incisione sistematica molto più significativa però chi vorrebbe veramente considerare questa affermazione di Rahner per completamente data agli atti della storia e non più calzante appunto per la caratteristica della vita cristiana ancora oggi che cosa contraddistingue di più la prassi religiosa la preghiera nella vita la vita spirituale dei cristiani dei cristiani il monoteismo o la trinità in questo senso penso che le considerazioni di Rahner siano in parte ancora molto pertinenti ma qui nel nostro corso ci interessa innanzitutto la ragione sistematica di tutto questo la ragione metafisica fondamentale Rahner dice è degno di considerazioni il fatto che per esempio il Pier Lombardo include la teologia generale nel trattato trinitario fatto che Grabman classifica tra gli errori capitali di Pietro Lombardo interessante per Rahner Lombardo è già molto avanti rispetto poi ai seguenti sviluppi della metafisica medievale ossia di includere la teologia generale nel trattato trinitario di non fare una teologia generale che parte dalla metafisica dell'essere e della teologia naturale e poi trattando della trinità a parte di dividere quindi i trattati di Deo Uno e di Deo Trino ma di includere il primo nel secondo fatto che interessantemente Grappmann il grande studioso della scolastica a Monaco avrebbe classificato come un errore e continuiamo la citazione di Rahner e che analogamente per esempio nella Somma Alexandri non è presente ancora una netta divisione dei due trattati quindi fino a quanto sarebbe arrivato l'aristotelismo forte nel Medioevo in un certo senso questa divisione tra la teologia razionale fondandosi su categorie aristoteliche e un certo pensiero trinitario non sarebbe ancora così esplicito ciò accade come fu detto per motivi non del tutto ancora precisati solamente in Tommaso ecco Eli non tratta in primo luogo di Dio Padre quale principio senza principio nella divinità e nella realtà cosmica ma prima di tutto della natura comune a tutte e tre le persone quindi considerebbero meno le dinamiche specifiche che nascono dalla ontologia trinitaria ma adopererebbe piuttosto una categorizzazione aristotelica per parlare dell'essere assoluto e così è rimasto quasi dappertutto in questo modo il trattato sulla trinità cada ancora più in una splendid isolation per colpa della quale esso occorre fortemente il pericolo di venire considerato come non interessante per la vita religiosa si ha l'impressione che tutto ciò che Dio è importante per noi si è già stato detto prima nel trattato de Deo 1 e in questo senso troviamo delle affermazioni ancora più esplicite ancora più chiare in Klaus Hammerle Klaus Hammerle dice la frase che da molto da pensare è espresso già negli anni 70 ma ancora oggi da considerare perché ancora oggi siamo carenti di una vera e propria ontologia trinitaria e dice nella simbiosi dello specifico cristiano con la ontologia il primo cioè la teologia quasi inavvertitamente ha continuato ad essere una sorta di ospite nei molteplici progetti e sistemi filosofici di impostazione eterogenea ossia in altre parole che il dogma cristiano della trinità ossia che la novità di Nicea di Calcedonia non avrebbe plasmato in formato profondamente il pensiero cristiano dell'essere in quanto tale come se i cristiani fossero rimasti cosmologi greci quando si parla dell'essere del mondo e poi avrebbero raggiunto un'altra visione di Dio senza considerare nella filosofia che una concezione diversa dell'essere assoluto avrebbe dovuto influire anche su una considerazione diversa dell'essere finito e dice alcuni grandi tentativi di un genuino aborto cristiano non furono comunque fecondi nella scuola né nella coscienza in generale e non furono decisivi per l'ulteriore storia del pensiero nella simbiosi dei contenuti cristiani con l'ontologia i primi cioè i contenuti cristiani quasi senza che ci se ne accorgesse restarono in certo modo ospite di molteplici progetti e sistemi filosofici di impronte e di provenienza eterogenee aristoteliche la caratteristica cristiana non ha contribuito durvolmente a rinnovare la precomprensione del senso dell'essere né il punto base dell'ontologia nel suo complesso quindi ciò che sarebbe il vero novum di Nicea di Calcedonia dove la teologia ha suscitato e fatto progredire questioni e concezioni ontologiche aggiungendo qualcosa di suo al patrimonio ricevuto perché nella filosofia perché in Nicea e Calcedonia come dice Emmerle la filosofia greca nelle definizioni non è stata semplicemente adoberata è stata anche riplasmata come abbiamo detto prima e dovrebbe portare ma non l'ha ancora portato e ha portato tanto meno in San Tommaso a ciò che Piero Coda identifica come il vero e proprio compito di un'ontologia trinitaria o sia il ripensamento dell'ontologia in prospettiva fenomenologica esistenziale e intersoggettiva ossia quei momenti che grazie all'annuncio cristiano si poteva rivalorizzare anche all'interno del pensiero dell'essere quindi considerare il soggetto la relazione all'intersoggettività come prima conseguenza concreta come prima conseguenza concreta di un ripensamento dell'essere in quanto tale in chiave di ontologia trinitaria infatti l'ontologia trinitaria che non riduce semplicemente l'essere a una concezione annoetica nei confronti della quale il soggetto sarebbe solo quello che conosce passivamente ma che già la relazione di verità già la conoscenza già il rapportarsi cognitivamente alla realtà instaura un rapporto originale come abbiamo visto prima in Rosmini e questo viene ulteriormente valorizzato non soltanto nel rapporto tra uomo e realtà ma nel rapporto intersoggettivo nel rapporto morale quindi nel rapporto del bene e quindi vediamo adesso come le tre forme rosminiane che non consente di pensare questa relazionalità questo coinvolgimento del soggetto già nella conoscenza e poi nella intersoggettività nel fenomeno non soltanto di una verità passiva ma di una verità tra virgolette attiva che non vuol dire relativa o relativistica e poi innanzitutto del campo della morale dell'amore del perfezionamento questo come il primo è fondamentale risultato ed esito concreto di un'ontologia identitaria di un'incidenza del ripensamento del pensiero dell'essere a partire dalla divina rivelazione e in quale altro campo cari spettatori l'annuncio cristiano ha prodotto più risultati concreti se non nel campo pratico nel campo politico nel campo giuridico producendo nuovi diritti producendo il rispetto delle persone il riconoscimento l'amore come la forma suprema del riconoscimento dell'altro che cosa altro ha fatto il cristianesimo se non rivoluzionare profondamente la realtà non perché ha rivoluzionato il cosmos in un certo senso un essere reale che è stato creato evidentemente anche molto prima però concretamente la società la vita degli uomini se non che cosa ha rivoluzionato se non quella che diventa il centro del pensiero dell'essere in chiave cristiana e che non è un essere appersonale o un essere morto ma è la persona come altro una ontologia dove altro una ontologia trinitaria trova il suo fulcro quindi se non in un personalismo cristiano nel concetto di libertà morale nel concetto di libertà di stato di diritto di riconoscimento di valorizzare i rapporti di reciprocità di amore a livello morale con gli altri delle implicazioni quindi morali ed etico sociale della idea del concetto di persona ed è la consapevolezza la riscoperta che intorno alla persona considerando il soggetto quindi all'interno di un pensiero dell'essere che rivoluziona che diventa fondamentale per una metafisica che non rimane una metafisica annoetica assoluta nel senso che il soggetto è un mero spettatore di una realtà che è una mera che è una mera figura che si deve adeguare ma che non veramente forma crea plasma realtà interpersonale valori libertà in questo senso intuiamo vediamo come una ontologia trinitaria originalmente si esprime come un personalismo l'ontologia trinitaria è la metafisica che sta al fondamento di un personalismo che non rimane semplicemente un personalismo fenomenico un personalismo retorico un personalismo politico ma che diventa veramente un personalismo ontologicamente pensato quindi in altre parole un personalismo come si potrebbe chiamarlo dialettico e questo è il risultato dell'ontologia trinitaria di Osmini di prendere sul serio di prendere sul serio l'idea che questa categoria che aveva intuito San Tommaso perché ha messo in relazione essere assoluto ed essere contingente nella loro differenza ontologica l'actus essendi adesso raggiunge il soggetto adesso è pensato dal soggetto è la manifestatività dell'essere al soggetto eredità metafisica di San Tommaso è produttività della sfida speculativa del soggetto moderno della metafisica di Hegel questo è il risultato originale dell'ontologia trinitaria rosminiana che poi diventa un vero metafisico un vero personalismo dialettico e che ci aggiungiamo ad approfondire analiticamente criticamente un po' esegeticamente insieme alla teosofia di Rosmini nelle prossime lezioni